L'Oprez Obrador, che è presidente del Messico qualche mese fa, in occasione del cinquecentenario della Costituzione in Messico, per l'appunto dello Stato della Nuova Spagna, ha pensato giusto chiedere al Papa e al Re di Spagna che chiedessero perdono per tutti i crimini fatti in Messico, per tutti i crimini fatti in Sud America, contro gli Indio, contro la popolazione locale. Adesso, sapete che hanno cominciato, nelle università americane, poi mano a mano la cosa si estende a buttare giù le statue di Colombo, perché Colombo era uno schiavista, a decapitare le statue di Frai Junipero Serra, che è l'evangelizzatore della California, un uomo da una vita meravigliosa. Adesso, quindi, il comune di Medellin in Spagna, che ha dato il Natale a Cortés, che è il conquistatore per eccellenza spagnolo, ha chiesto, tramite l'ambasciatore di Spagna in Messico, ha chiesto che siano rese le spoglie mortali di Hernán Cortés alla Spagna, perché c'è il ragionevole dubbio che qualcuno le disperda, che qualcuno disprezzandole le voglia distruggere, buttare ovunque. Questo è il mood, questo è la spinta in cui i giornaloni, i presidentoni si muovono per condannare in toto la Spagna. La Spagna, ma appresa la Spagna, va la Chiesa, perché la Chiesa è arrivata in America Latina, col consenso del Papa, anzi con l'incoraggiamento del Papa Alejandro VI e con l'esplicito obbligo che il Papa dava ai re cattolici di evangelizzare. È interessante questa vicenda del presidente del Messico che vuole le scuse, è interessante. È interessante perché, perché, lo vedremo, ho pensato di fare alcune pillole a riguardo, perché dobbiamo sapere la verità. È vero che Hernán Cortés era il primo di Mascalzoni, così come la regina di Spagna, Isabella di Castiglia, così come tutti gli spagnoli che vanno a conquistare. È vero, perché sì è vero, c'è ragione Brador. Vanno chieste le scuse, va chiesto perdono. Se le storie stanno un pochino diversamente e non è vero, o addirittura fosse completamente falso, ebbè, le cose andrebbero sapute, perché si gioca sulla nostra ignoranza per farci credere di tutto. Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza.